Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi il nuovo video è tema Harry Potter. Finalmente il canale riparte e ragazzi mi avete cercato in tanti sui social, mi avete chiesto in tanti quando sarebbero ritornati i video. Beh ragazzi devo dirvi che anche io sono stato travolto da quello che sta succedendo in Italia e capisco che soprattutto i più giovani vogliono video su YouTube, vogliono nuovi video perché sono costretti a rimanere a casa da scuola e anche da qualsiasi altra attività extrascolastica. In molti mi avete chiesto come mai non stai facendo più video visto che siamo tutti costretti a casa. La risposta è semplice, io non sono costretto a casa perché sto continuando a lavorare. Lavoro nel settore alimentare quindi io devo andare a lavoro ogni giorno, infatti ho le mani praticamente consumate da guanti, disinfettante, ho il collo tutto segnato da elastici di mascherine ma ogni giorno devo andare a lavoro. Quindi oggi è domenica, finalmente posso rimanere anch'io a casa e quindi approfitto per riprendere a fare i video e per tenervi un po' di compagnia. E ho deciso di recuperare i quattro volumi che ancora dovevo recensire a tema Harry Potter che sono il primo, quello che recensiremo oggi è questo qui, Harry Potter High History of Magic che è il catalogo, la guida alla mostra che era stata allestita alla British Library a Londra che è davvero molto molto interessante, questo è stato pubblicato solo in inglese, non esiste ancora in italiano ad oggi e io l'ho ordinato su Amazon se non ricordo male. E ragazzi sono davvero molto molto soddisfatto. Vi avevo detto se eravate interessati, mi avete detto di sì e vi dirò che il livello di inglese di questo libro non è particolarmente difficile ogni tanto ho trovato qualche parola ostica, qualche termine un pochino più ricercato e quindi mi sono avvalso di un traduttore online anche dallo smartphone in pochi secondi si riesce a risolvere il problema ma è di semplice comprensione, devo dire che va bene per chi ha un livello di inglese medio buono. Quindi ragazzi ve lo straconsiglio, adesso lo sfoglieremo assieme e poi successivamente arriveranno anche altri video e spero di pubblicarli in tempi abbastanza brevi così da darvi più roba da vedere e sfoglieremo assieme anche la versione illustrata da Jim Kaye sia del prigioniero di Azkaban che del calice di fuoco e anche la versione illustrata delle fiabe di Bedelbardo. Ma intanto oggi direi di cominciare con questo quindi ragazzi bando le ciance e cominciamo subito a sfogliarlo Ed eccoci qua con il nostro bel volume ragazzi la copertina è davvero molto molto bella con questa fenice, caratteri ripotte in oro e poi qui abbiamo anche l'editore che è Bloomsbury ragazzi è molto molto bella e molto ben curata ma cominciamo a sfogliarlo ecco qui che troviamo la nostra fenice già nella prima pagina e poi abbiamo questa che è un'illustrazione preparatoria o comunque la bozza non colorata di Diagon Alley realizzata da Jim Kaye che troviamo appunto in Harry Potter e la Pietra Filosofale se non ricordo male ecco qui l'indice dei contenuti che adesso andiamo a vedere assieme e abbiamo il viaggio, quindi l'avventura e il viaggio di Harry Potter e poi abbiamo anche pozioni e alchimia erbologia, incantesimi, astronomia, divinazione difesa contro le arti oscure, cura delle creature magiche e poi passato, presente e futuro continuiamo a sfogliare il nostro volume e vediamo qui un'introduzione di uno dei curatori di questa mostra della British Library ci saranno diverse introduzioni dei vari curatori delle diverse sezioni della mostra e ragazzi, come vedete, in ogni pagina sono presenti delle illustrazioni illustrazioni molto belle perché sono immagini antiche immagini di volumi del 500, del 600, del 700 davvero cose molto molto belle e interessanti infatti ogni didascalia va assolutamente letta e poi ecco che qui abbiamo il primo capitolo di viaggio e abbiamo l'introduzione di un'altra delle curatrici e poi qui abbiamo l'espresso di Hogwarts, sempre di Jim Kaye e diverse illustrazioni di Harry e qui abbiamo anche dei documenti, delle scansioni di documenti relativi all'inizio dell'avventura di Harry Potter e di come è nato abbiamo questa che è un'illustrazione di J.K. Rowling e poi ecco che è ancora Jim Kaye e queste sono altre illustrazioni di J.K. Rowling questo è uno schizzo della piantina di Hogwarts e dei dintorni che è stata realizzata appena su questo foglio di carta proprio dalla Rowling abbiamo un'introduzione di diversi professori e qui ad esempio abbiamo una parte dedicata alle fiabe di Bedelbardo questa è l'edizione manoscritta da J.K. Rowling quella che io possiedo come edizione collector delle fiabe di Bedelbardo che ha realizzato Amazon diversi anni fa ed è davvero molto molto bella e qui viene raccontata un po' la sua storia la storia delle Rune e poi si comincia col primo vero e proprio capitolo che è quello di Pozioni e Alchimia qui altra introduzione di un altro Decuratori e poi si parla delle Pozioni qui abbiamo delle illustrazioni di libri molto molto antichi questo qua ad esempio è del 1491 e abbiamo un maestro che insegna praticamente come realizzare degli intrugli ai propri allievi qui si parla non proprio di Pozioni ma magari più di Farmacia però è diciamo che è un po' l'origine delle Pozioni che oggi vediamo nel mondo di Harry Potter qui abbiamo anche un vero calverone che è conservato al British Museum diversi appunti qui dei libri di Harry Potter e poi abbiamo ad esempio l'unicorno da dove deriva tutta la sua varia mitologia abbiamo il Bezoar questo è un vero Bezoar ad esempio ma ragazzi davvero ogni pagina è piena di cose bellissime di riproduzioni davvero molto molto interessanti di informazioni molto molto interessanti c'è davvero di tutto e di più e qui troviamo il capitolo dedicato all'erbologia con appunto un'altra introduzione come per ogni capitolo poi qui la prima illustrazione della professoressa Sprite realizzata da Jakey Rowling proprio da suo pugno e poi ecco che abbiamo ad esempio dei trattati originali di erbologia qui ci viene raccontata un po' tutta la storia di come venivano coltivate queste piante di tutte le loro varie proprietà curative e anche per altri scopi che venivano utilizzate magari nel medioevo e in quell'epoca lì dove la medicina quella di oggi non era ancora presente e appunto ci si basava molto sulle proprietà delle erbe dei fiori, delle radici e qui troviamo anche ad esempio la mandragora un po' più avanti eccola qui proprio un capitolo dedicato alle mandragore che hanno naturalmente una storia molto molto antica e che Jakey Rowling ha ripreso all'interno dei suoi libri qui abbiamo i nani che troviamo nei giardini degli abitanti del mondo magico davvero molto molto interessante e poi capitolo 4 gli incantesimi ecco che qui c'è la solita introduzione e poi qui abbiamo l'illustrazione realizzata da Jakey Rowling questa non l'avevo mai vista ma è davvero molto molto bella di come funziona l'ingresso di Diagon Alley e devo dire che la Rowling è davvero molto molto brava mi piace tantissimo questa illustrazione e mi sarebbe piaciuto vedere un intero volume illustrato proprio dalla Rowling e qui abbiamo le scope ci viene spiegato come è nata questa associazione tra la scopa magica la scopa volante e il mondo della stregoneria il mondo della magia quindi ragazzi davvero molto molto bello guardate quanto è bella anche questa illustrazione poi capitolo dedicato all'astronomia molto importante e presente nei libri di Harry Potter e naturalmente anche questa ha tutta una sua storia che è davvero anche molto interessante in questo caso qui si parla di costellazioni naturalmente ma è molto 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 interessante da leggere io ho saltato un po' di cose durante la lettura però non ho assolutamente saltato tutte le varie spiegazioni delle immagini che ho trovato andando avanti nella lettura davvero molto molto bello ma si parla anche di divinazione ecco qui che abbiamo le sfere e ragazzi questo ci fa capire quanto studio ci sia all'interno dei libri di Jake Rowling qui abbiamo i tarocchi tutte arti tutte cose che abbiamo trovato citate qui e lì all'interno dei volumi magari noi non ci abbiamo mai fatto caso più di tanto ma la Rowling ha farcito tutti i suoi libri con delle tecniche delle cose che davvero sono esistite davvero c'era gente e magari anche oggi c'è gente che crede che si possa leggere il futuro nel fondo di una tazza di tè e questo è un libro reale che spiegava come andare a leggere i fondi di tè ad esempio ma come questo si parla di rune si parla di tantissime altre cose qui passiamo alla difesa contro le arti oscure e anche in questo caso la Rowling ha attinto a mani piene dalla mitologia qui si parla di serpenti naturalmente qui abbiamo delle scansioni di testi di bozzetti dei libri di Harry Potter e poi ragazzi draghi naturalmente immancabili K i talismani e tantissime altre informazioni interessanti e poi si passa alla cura delle creature magiche si parte ovviamente con i gufi ma abbiamo anche i giganti infatti abbiamo Hagrid nel nostro libro si parla anche della Gringot perché si parla di elfi fantasmi poltergeist qui abbiamo altri manoscritti della Rowling e poi i draghi ad esempio tutte le varie famiglie di draghi con le uova di drago ancora i gufi i rospi i gatti tutto quello che abbiamo visto all'interno della saga le acromantule i ragni l'ippogrifo tutte queste creature sono molto molto presenti nella mitologia nella storia e oggi le ritroviamo tutte all'interno dei libri di Harry Potter qui abbiamo naturalmente l'unicorno ma anche la fenice davvero ragazzi la Rowling ha tinto a mani piene ho trovato questa molto molto interessante si tratta di una sirena mummificata che è conservata al British Museum ma viene spiegato che ovviamente non è una vera sirena ma in Giappone venivano vendute ai turisti europei soprattutto ai morti nobili ricchi europei che andavano in viaggio in Giappone e riportavano a casa queste creature per esporle nelle proprie biblioteche e si tratta della parte superiore che viene tagliata da una scimmia e la parte inferiore da un pesce venivano poi assemblate assieme mummificate vendute come sirene e questo non ha fatto altro che alimentare appunto tutte le dicerie tutta la mitologia relativa alle sirene ed è davvero molto interessante il fatto che ce ne sia una conservata al British Museum qui abbiamo un Graform ad esempio ma abbiamo davvero ragazzi di tutto e di più all'interno di questo volume che non è lunghissimo però è davvero ricco ricco di informazioni e poi il libro si conclude con passato presente e futuro dove c'è una sezione molto interessante eccola qui dove troviamo tutti i vari planning dei sette libri di Harry Potter perché come sappiamo la Rowling quando venne pubblicato il primo volume la pietra filosofale aveva già presente aveva già in mano tutti questi appunti relativi a tutti e sette libri infatti vediamo queste tabelle che riportano tutti gli avvenimenti principali di ogni singolo libro di Harry Potter che lei già aveva tra le mani quando è stato pubblicato il primo volume ed è proprio per questo motivo che mi dà molto fastidio quando sento alcuni youtuber senza fare nomi che vanno a dire che la Rowling ha improvvisato man mano che andava avanti con la scrittura dei libri ha inserito cose ed ha improvvisato senza aver programmato prima quello che sarebbe successo nei libri precedenti non è assolutamente vero qui abbiamo tutto e mi dà fastidio anche quando si dice che ad esempio la storia di Ariana che è legata agli obscurus e l'obscuriale che abbiamo sentito in Animali Fantastici sia stata inserita così adesso da un momento all'altro oppure ad esempio la storia di Nagini che è in realtà una donna è stato detto che è una paraculata perché è stata introdotta solo come fanservice ma invece io credo assolutamente al fatto che la Rowling l'avesse già pensato in questa fase ma che poi non avendo trovato spazio in modo di raccontarla abbia deciso solo adesso di introdurla in Animali Fantastici dove sicuramente può trovare più spazio e dove può essere sviluppata meglio ed eccoci di nuovo qui ragazzi quindi cosa aggiungere devo dire che lo sfogliare il libro assieme a voi credo vi abbia già dato un po' tutto il quadro d'insieme di questo volume secondo me è molto molto valido molto bello è pieno davvero strapieno di immagini e descrizioni molto molto interessanti ci sono davvero tante tante illustrazioni immagini disegni di J.K. Rowling bozzetti studi preparatori dei libri di Jim Kay che sono un po' celati in mezzo alle pagine troviamo tante cose interessanti riguardanti l'origine appunto delle streghe della magia di tutte le creature magiche della mitologia quindi io l'ho trovato molto molto interessante non l'ho letto tutto per intero da cima a fondo l'ho sfogliato ho letto alcuni paragrafi le cose che magari più mi interessavano come tutta la parte riguardante ad esempio la mandragora ho letto diverse sezioni che mi hanno un po' attirato quella sull'unicorno quella sulle scope quindi devo dire che è anche un po' una sorta di dizionario prendiamolo un po' così di enciclopedia delle di tutte le fonti utilizzate da J.K. Rowling per la scrittura tutti gli spunti che J.K. Rowling ha preso durante la stesura dei suoi sette libri stavo per dire otto ma otto sono i film i suoi sette libri quindi ragazzi io ve la straconsiglio la lingua inglese in questo caso non la trovo un limite così insormontabile quindi io vi direi di comprarlo tranquillamente questa è la versione brossurata che comunque è molto molto bella è fatta davvero molto bene di altissima qualità e costa meno della metà rispetto a quella cartonata io sinceramente ho preso questa perché qualora dovesse uscire un domani la versione in copertina rigida tradotta in italiano allora andrei a comprare quella e magari a rivendere questa edizione qui che ho pagato 15 sterline ma se non sbaglio intorno ai 15 euro su Amazon ragazzi naturalmente trovate il link sotto in info box per qualsiasi domanda mi raccomando usate i commenti oppure su instagram antonio.seria e che dire ragazzi io vi do appuntamento prestissimo col prossimo volume che è quello di Harry Potter è il prigioniero di Azkaban illustrato da Jim Kay mi raccomando iscrivetevi al canale commentate condividete campanellina le solite cose e noi ci vediamo prestissimo ciao ciao